Buonasera, è l'1.14, domani la giornata più importante per quello che riguarda la politica comincerà alle 9.30 al Senato con le comunicazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi, sarà una lunga giornata e poi in serata è previsto il voto di fiducia sul Presidente del Consiglio, sono state tante le pressioni non solo dalla politica e dall'imprenditoria, dai movimenti in Italia ma anche dall'estero, quindi domani sera sapremo come andrà a finire questa vicenda che è stata chiamata, appunto domani è stato definito il giorno più lungo, sarà seguito dalla nostra rete con il direttore Mentana dalle 8 alle 20, ma adesso vediamo il servizio. A poche ore dalle comunicazioni di Mario Draghi in Senato il finale è quanto mai aperto, Di certo c'è solo il calendario, alle 9.30 a Palazzo Madama domani in serata il voto di fiducia al Senato, il giorno seguente alla Camera. Il Premier, tra pela del suo entourage, non sarebbe indifferente al pressing internazionale e agli appelli arrivati in queste ore, dai sindaci alle categorie produttive. Nel suo discorso indicherà le condizioni per andare avanti, poi la palla passerà ai partiti. Partiti impegnati oggi in riunioni, telefonate, confronti pubblici e segreti. In mattinata Enrico Letta, in prima linea per tenere conte nel governo, viene avvistato da un cronista del foglio dalle parti di Palazzo Chigi, dopo un incontro con il Premier, che poi a sua volta salirà a Quirinale per parlare con il Presidente della Repubblica, Mattarella. Nel pomeriggio, nella residenza romana di Berlusconi, si riunisce invece il centrodestra di governo, Salvini con i suoi capigruppo, lo Stato Maggiore Forzista e i centristi Cesa e Lupi. Dal vertice arriva subito una nota indignata, sconcerto perché Draghi ha ricevuto il segretario Dem e non gli altri leader. Berlusconi telefona Draghi e poco prima delle 20, Tajani, Lupi, Salvini e Cesa varcano la soglia di Palazzo Chigi. Nel confronto il centrodestra ribadisce il proprio veto. L'esecutivo può andare avanti solo senza i 5 Stelle e apre la propria trattativa sui temi. Stop a sette punti dei nove che il Movimento ritiene imprescindibili per votare la fiducia e la richiesta. Fino a tarda sera vanno avanti le riunioni allargate o ristrette delle forze politiche. Ognuno si assumerà le proprie responsabilità in Parlamento. La sintesi di Enrico Letta e i suoi. A Teheran oggi si è svolto un importante trilaterale tra Russia, Iran e Turchia. Si è parlato nel corso di questo incontro anche di come sbloccare i porti ucraini per far partire il grano e i cereali. Ci sono dei progressi ma restano ancora delle questioni da risolvere, ha detto Putin, che ha chiesto che sia sbloccato anche l'export del grano russo. Putin, che per la seconda volta dall'inizio della guerra ha viaggiato fuori dal suo paese, ha ringraziato Erdogan e ha aggiunto che anche Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita stanno mediando nella crisi. Il presidente russo ha anche poi detto che Gazprom rispetterà gli impegni e non sospenderà le forniture di gas. L'incontro di oggi sul grano arriva dopo quelli che si sono svolte nel giorno e nelle settimane scorse tra le delegazioni Turchia, Russia, Ucraina e ONU. Putin ha poi incontrato il presidente iraniano Raisi e la guida suprema, la Yatollah Kamenei, rafforzando così il legame tra la Russia e l'Iran. La cronaca, la morte di Davide Rossi fu un suicidio, sono le conclusioni della commissione di inchiesta parlamentare che ha indagato sulla fine del responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, avvenuto nel 2013. Per la commissione non c'è alcun giallo, né misteri legati ad alta finanza, lobby di potere o scandali sessuali. Rossi si lasciò cadere dalla finestra del suo ufficio e forse, se i soccorsi fossero arrivati in tempo, si sarebbe potuto anche tentare di salvarlo. Restano però particolari senza spiegazione chi ha cancellato un video e poi le ferite che Rossi aveva sul viso e sugli arti che non sono compatibili con la caduta, elementi cui probabilmente si aggrapperanno i familiari per tentare di riaprire una nuova inchiesta. 19 luglio di 30 anni fa, la morte del magistrato Paolo Borsellino e dei cinque uomini, anzi quattro uomini e una donna, della sua scorta. Oggi si sono tenute a Palermo le commemorazioni di quella giornata. È stato osservato un minuto di silenzio nell'ora in cui esplose l'autobomba, poi dal palco Antonino Vullo, unico sopravvissuto della strage, ha scandito i nomi delle vittime. Quello di oggi è stato però anche un anniversario scandito dalla rabbia con i familiari che hanno scelto di disertare tutte le celebrazioni ufficiali fino a quando la verità sull'attentato non sarà emersa del tutto. E in queste ore continuano gli incendi. Ci sono dei fronti particolarmente pericolosi. Oggi ci sono stati appunto incendi nel Carso, lungo l'autostrada nell'Orvietano e a Massarosa. Siamo in Versilia. Sono dovuti intervenire nel Carso i pompieri con molti mezzi e non tutti i fuochi sono stati spenti. Sono arrivati i vigili del fuoco dalle altre regioni e anche dalla Slovenia. Sono tre i fronti alimentati dal vento che hanno costretto diverse persone a lasciare le case. Sarà una lunga notte di lavoro anche per i vigili del fuoco della Versilia, nello specifico intorno a Massarosa, dove un gigantesco incendio ha già bruciato 800 ettari di bosco. 200 persone sono state costrette a lasciare le case e si sta lavorando solamente da terra perché le condizioni non consentono ai mezzi di volare. 1.20 termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Arrivederci. Grazie. A domani.